L'operazione DEP 1 del Comando Carabinieri Calabria, in collaborazione con il Comando della Regione Carabinieri Forestale e la partecipazione dello squadrone cacciatore di Vibo Valencia con il supporto di elicotteri relativa agli illeciti ambientali, colpisce anche Bivongi con il sequestro del depuratore di località Vina, sito a qualche chilometro dall'abitato. I sigilli infatti sono stati affissi davanti al cancello d'ingresso a firma del Comandante Salvatore Faraci della Stazione dei Carabinieri di Stilo e dal Brigadiere Stefano Racchiele della Stazione Carabinieri Forestale di Vallelonga nel corso del monitoraggio del territorio. Qualcosa che nessuno si aspettava perché mai a Bivongi c'era stato un sequestro, anche perché le amministrazioni comunali passate erano attente e rispettavano le normative, così come sta facendo l'attuale amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Valenti. Un fulmine al ciel sereno perciò. Pare che il sequestro sia dovuto per violazione alle enormi materie di gestione e omissione di smaltimento fanghi. Sicuramente però in tanti a non capire il motivo del sequestro e che tipo di sequestro è, visto che i motori delle vasche di decantazione del depuratore sono ancora in funzione. Purtroppo l'amministrazione comunale pari sia stata sanzionata con una multa che va ad accumularsi alle altre località delle città metropolitane di Reggio Calabria, sanzionate che si aggira intorno a 400.000 euro.